ciao a tutti questa settimana sarei dovuto andare a fare un mercatino che già sono cominciati i mercatini di natale a metà novembre però l'organizzazione ha tirato un bidone sarebbero dovuti far sentire non si sono fatti sentire li ho chiamati io nessuno rispondeva me lo sono preso in quel posto ho imparato che di questa associazione non ci si può fidare quindi mai più e allora cosa ho fatto ne ho approfittato per fare un video che in tanti mi avete chiesto come avete letto dal titolo è un video sullo zoroastrismo che è una religione dalla quale hanno preso spunto sicuramente tutti e tra le religioni monoteistiche ebraismo cristianesimo e islam e anche tante religioni pagane e adesso vediamo insieme di cosa si tratta oh yeah lo zoroastrismo definito anche mazdeismo dal persiano antico mazda yasna cioè adorazione di mazda o culto di mazda è la religione basata sugli insegnamenti del suo fondatore il profeta zar duxt chiamato in occidente zaratustra o zoroastro nato nell'odierno azerbaijan non si conosce con precisione in quale periodo sia vissuto ma gli studiosi hanno usualmente collocato il personaggio storico zaratustra tra l'undicesimo e il settimo secolo avanti cristo ipotesi più recenti confermate da verifiche filologiche e archeologiche ritengono che sia più plausibile una sua collocazione nell'età del bronzo tra il diciottesimo secolo e il quindicesimo secolo avanti cristo l'area geografica in cui si ritiene possa aver vissuto e predicato il profeta iranico è compresa tra gli odierni afghanistan e turkmenistan lo zoroastrismo nel tempo diffusosi soprattutto fra i popoli iranici fu la religione favorita dalle due grandi dinastie dell'antica persia gli achemenidi e i sassanidi tra il sesto secolo avanti cristo e il decimo secolo dopo cristo fu la religione più diffusa nelle regioni iraniche e nell'asia centrale sia teologicamente che demograficamente e politicamente secondo la tradizione molti dei testi sacri andarono perduti quando alessandro magno distrusse persepoli e rovesciò il regno achemenide negli anni successivi al 330 avanti cristo quindi siccome non sono sopravvissute fonti scritte persiane contemporanee di quel periodo è difficile descrivere a fondo la natura dell'antico zoroastrismo anche perché il testo sacro della religione la vesta è stato messo per iscritto solo nel secondo secolo avanti cristo quindi oltre un secolo dopo l'arrivo di alessandro magno e fino ad allora era stato tramandato solo per via orale nonostante le vicissitudini politiche della zona lo zoroastrismo resistette e quando la dinastia sassanide prese il potere in persia nel 228 d.c. promosse l'adozione della religione zoroastriana molti storici ritengono che i sassanidi perseguitarono in un primo momento il cristianesimo perché considerarono i cristiani come potenziali alleati del loro cerrimo nemico l'impero romano ma il cristianesimo antico vide anche il distacco da roma di alcune chiese orientali tra le quali la chiesa nestoriana che si pose in conflitto con le dottrine accettate a roma e costantinopoli fu tollerata e a volte addirittura favorita dalla dinastia imperiale a partire dal sesto secolo lo zoroastrismo si espansi nella cina settentrionale attraverso la via della seta ottenendo uno status di ufficialità in alcuni stati cinesi tanto che numerosi tempi zoroastriani rimasero fino almeno al 1130 circa nelle regioni di caifeng oggi henan e zenzhang ma dal tredicesimo secolo la religione perse gradualmente importanza nel panorama religioso cinese nel settimo secolo la dinastia sassanide fu abbattuta dagli arabi musulmani e gli zoroastriani ottennero lo status di popolo del libro da parte del secondo califo omar dopo l'occupazione islamica l'uso della vesta antico e delle lingue persiane fu proibito perché conquistatori islamici considerarono gli insegnamenti zoroastro come un culto politeistico ma i seguaci zoroastriani non accettavano una nuova religione e volevano mantenere le loro tradizioni religiose legate al fuoco sacro preferivano morire piuttosto che convertirsi all'islam perciò i musulmani permisero i seguaci dello zoroastrismo di rimanere nella loro fede solo pagando una tassa dell'anima si trattava di una tassa molto alta al cui mancato pagamento i soldati arabi portavano via tutti gli animali e proprietà della persona poi schiavizzavano i figli e infine la persona stessa che perdeva la libertà totalmente di conseguenza lo zoroastrismo che una volta era stata una religione dominante in una regione che andava dalla turchia al golfo persico e all'asia centrale lentamente perse la sua influenza nell'ottavo secolo un gran numero di iranici devoti al culto zoroastriano emigrò in india dove trovò rifugio presso javadrana un re hindù dell'attuale provincia del gujarat ma a condizione che essi si astenessero da attività missionarie e si sposassero solamente tra loro anche se tali restrizioni sono vecchie di secoli ancora oggi parsi così si chiamano in india i devoti dello zoroastrismo non fanno proselitismo e sono endogamici cioè si sposano soltanto tra credenti dello stesso culto come i parsi in india piccole comunità zoroastriane permangono ancora oggi in iran tajikistan azerbaijan gran britagna stati uniti canada e australia la popolazione mondiale di zoroastriani è stimata tra le 300.000 e le 350.000 unità di questi 90.000 circa sono parsi dell'india alcuni zoroastriani famosi negli ultimi 100 anni sono freddy mercury cantante rock e pianista inglese quello dei queen che era nato in madagascar zubin meta direttore d'orchestra indiano alexander bard cantante svedese joannes hitten pittore e insegnante svizzero del movimento bauhaus dadabai naoroji intellettuale e politico indiano kai kosru shapurji soravji compositore critico musicale e pianista britannico nariman eruch avari noto come eric o eric avari attore indiano e questo avrete visto sicuramente nella serie stargate l'unesco suppressione del governo del tajikistan ha proclamato il 2003 anno della celebrazione del tre millesimo anniversario della cultura zoroastriana con manifestazioni speciali in tutto il mondo lo zoroastrismo è una religione monoteista il suo testo sacro è la vesta che raccoglie diversi contributi di varia origine accumulatisi lungo i secoli di esso solamente legata i canti religiosi sono secondo gli studiosi direttamente attribuibili al profeta zarotustra inoltre a seconda dei periodi storici che ha attraversato lo zoroastrismo è stato prima monoteista poi politeista dualista e infine di nuovo monoteista in ogni caso di base lo zoroastrismo è monoteista ed è incentrato sulla costante lotta tra bene e male agli inizi della creazione il dio supremo ahura masda che significa signore sapiente ed è caratterizzato da luce infinita ogni scienza e bontà creò lo spenta maniu ovvero lo spirito benevolo opposto ad angra maniu o hariman lo spirito maligno signore delle tenebre della violenza e della morte questi due spiriti primordiali che sono gemelli sono dotati di propria autonoma volontà nonostante questo la paternità di ahura masda non entra in causa come quella di un padre colpevole di aver generato un figlio malvagio perché la responsabilità etica è solo di chi compie la sua libera scelta il conflitto cosmico che ne risulta interessa l'intero universo inclusa l'umanità alla quale è richiesto di scegliere quali delle due vi seguire la via del bene e della giustizia porterà la felicità mentre la via del male apporterà infelicità inimicizia e guerra oltre alla dualità tra bene e male lo zoroastrismo introdusse i concetti di paradiso inferno e giorno del giudizio dopo la morte corporale l'anima della persona attraversa un ponte chiamato chim vatu peretu sul quale le sue buone azioni sono pesate con quelle cattive il risultato decreta il destino dell'anima paraviso o inferno alla fine dei giorni il male sarà definitivamente sconfitto dalle forze del bene guidate dalla figura messianica chiamata saoshiant il cosmo verrà purificato in un bagno di metallo fuso e le anime dei peccatori saranno riscattate dall'inferno per vivere in eterno entro corpi incorruttibili alla presenza di ahura masda la filosofia zoroastriana è riassunta da uno dei principali motti della religione buoni pensieri buone parole buone opere uomini e donne hanno uguali diritti all'interno della società la natura svolge un ruolo centrale nella pratica dello zoroastrismo le più importanti feste annuali zoroastriane riguardano celebrazioni della natura il nuovo anno nel primo giorno di primavera la festa dell'acqua in estate la festa d'autunno alla fine della stagione e la festa del fuoco in mezzo all'inverno pigrizia e lentezza sono mal viste la carità è vista come opera buona lo zoroastrismo condanna l'oppressione degli esseri umani e l'oppressione animale e anche i sacrifici animali e promuove l'uguaglianza di tutti gli esseri viventi senza distinzione di razza o religione come promuove il rispetto per qualsiasi cosa nello zoroastrismo l'energia del creatore è rappresentata dal fuoco i devoti del culto solitamente pregano la presenza di qualche forma di fuoco e in mancanza di esso davanti a fonti di luce il fuoco comunque non è oggetto di venerazione ma utilizzato semplicemente come simbolo anticamente la funzione principale del culto era lo jasna il sacrificio del haoma o soma una pozione a base di cannabis e funghi allucinogeni di solito amanita muscaria oppure oppio quando non c'era la manita bevuta come liquido sacrificale mentre veniva compiuta una serie complessa di rituali tale pratica fu osteggiata da zaratustra ma è ancora in uso in varie popolazioni nord asiatiche soprattutto in siberia il seguaci dello zoroastrismo pregano cinque volte al giorno gli zoroastriani non hanno attività missionarie e i parsi conservatori non accettano le conversioni mentre i parsi liberali e quelli dispersi soprattutto in europa e in america ammettono queste cose in india i parsi hanno l'abitudine di sposarsi tra consanguinei come avveniva in persia dove era consentita l'endogamia con madri sorelle e figlie quindi si sposavano madri sorelle figlie cos'era tutto un intruglio un gran disguido genetico in iran a causa della discriminazione tuttora esistente il matrimonio tra appartenenti a religioni diverse non è per niente incoraggiato dalla società e tanto meno dalle autorità i rituali connessi con la morte sono concentrati sull'anima della persona e non sul corpo che è considerato impuro alla morte e l'anima lascia il corpo dopo tre giorni nei tempi antichi il cadavere veniva esposto in luoghi aperti e sopraelevati chiamati torri del silenzio dove gli avvoltoi l'avrebbero mangiato anche gli imperatori persiani quali dario ciro serse e artaserse in quanto zoroastriani furono spolpati dagli avvoltoi prima di essere sepolti la tradizione dell'esposizione dei cadaveri è attualmente seguita solamente dei parsi gli zoroastriani dell'iran ricorrono alla cremazione o all'inumazione ma in tal caso la bara è posta nel cemento per proteggere la purezza della terra i seguaci di questa religione mantengono tante tradizioni della religione originale come la festa di primavera che viene considerata all'inizio del nuovo anno l'inizio della vita la vittoria del bene sul male e la vittoria della luce cioè del sole quindi del bene sulle tenebre il giorno della festa è l'ultimo martedì prima dell'equinozio di primavera la notte di quel martedì viene considerata magica e alcuni credono che possano accadere dei miracoli quel giorno bisogna fare pace con i nemici e chiedere perdono a quelli che si sono offesi la gente si veste con indumenti belli e nuovi secondo la tradizione e i bambini bussano alle porte lasciando un sacco sperando che ci sia messo dentro qualche dono e vanno a nascondersi per poi tornare a riprendere il sacco per la tradizione quel giorno non si può mandare via nessuno senza un dono nemmeno se fosse un nemico perché nel giorno sacro tutti devono ricevere solo del bene sul tavolo si mettono dei dolci a forma di sole di stella e infine un dolce a forma di mezzaluna quindi i corpi celesti sul quale si base il calcolo del giorno della festa inoltre mettono sul tavolo di festeggiamento delle uova colorate che sembrano anticipare di molto le uova di pasqua decorate tipiche dei paesi cristiano ortodossi e si prepara il pesce che secondo alcune fonti è simbolo di augura mazda vincente tutti questi dettagli e anche il periodo di festeggiamento sembrano dunque riproporsi nella pasqua che potrebbe avere qualche origine comune con la festa zoroastriana durante i festeggiamenti si salta sopra il fuoco che simboleggia la liberazione dei peccati dal male dalle malattie che vengono lasciate bruciare nel fuoco sacro questo rito prende origine dal credo zoroastriano circa il ponte per il paradiso dopo la morte l'anima passa sopra quel ponte sottile quanto un capello se l'anima è innocente passa senza problemi ed entra nel paradiso altrimenti l'anima è pesantita dei peccati e cade nel fuoco dell'inferno che si trova sotto il ponte non casualmente il nome azerbaijan dove nacque zaratustra significa letteralmente terra di fuoco e nella capitale baku si trova un antico tempio del fuoco meta di credenti provenienti fino dall'india attraverso la via della seta che giungevano qui per pregare e meditare davanti all'eterno fuoco sacro che esce dalla terra è vero che nel tempo lo zoroastrismo ha assimilato elementi esterni ma è anche vero che ha influenzato sicuramente i tre monoteismi e anche le tante religioni pagane e riassumiamo le principali somiglianze che abbiamo visto fino adesso il monoteismo è una cosa che hanno in comune sia ebrei che cristiani che musulmani mentre invece le religioni pagane di solito hanno più divinità generalmente legate alla natura la dualità tra bene e male anche questa è una cosa che hanno in comune sia ebrei che cristiani che musulmani mentre nelle religioni pagane non è così forte la distinzione tra questi due elementi il paradiso l'inferno è una cosa che hanno in comune sia ebrei che cristiani che musulmani che pagani tutte queste tipi di religione hanno assimilato questo elemento dallo zoroastrismo come altri che adesso vediamo il giudizio universale che è una cosa che hanno in comune ebrei cristiani e musulmani e anche qualche religione pagana tipo per esempio i vichinghi credevano nel giorno del muspilli che era il giorno del giudizio universale la fine del mondo poi c'è la risurrezione che è una cosa che hanno in comune tutti 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 proprio tutte le religioni ebrei cristiani i musulmani e tutte le religioni pagane hanno più o meno la risurrezione come concetto il considerare cosa buona e giusta le buone opere le buone azioni è una cosa che hanno in comune sia ebrei che cristiani che musulmani i pagani tante volte non hanno questo concetto mentre invece hanno il concetto di carità in comune tra l'altro sia con ebrei che con cristiani che islamici anzi nell'islam la carità è proprio una delle basi dell'islam i pellegrinaggi sono in comune tra ebrei cristiani e musulmani perché tutti devono andare a gerusalemme almeno una volta nella vita i musulmani devono andare anche alla mecca in più mentre religioni pagane non hanno questo obbligo la preghiera cinque volte al giorno è una cosa che hanno ereditato dallo zoroastrismo sia cristiani che i musulmani poi è vero che i cristiani se ne fregano però in teoria ci sono queste preghiere in mattutino i vespri alla sera tutte le preghiere in mezzo che adesso non mi ricordo come si chiamano questi orari i nomi delle varie preghiere comunque il buon cristiano come il buon musulmano come il buon zoroastriano deve pregare cinque volte al giorno le feste stagionali le tre religioni monoteistiche non le hanno assimilate mentre invece sono state assimilate da più o meno tutte le religioni pagane che festeggiano appunto natura e stagioni che fanno parte della natura i diritti uguali fra uomini e donne anche questi sono cose che sono state assimilate solo dalle religioni pagane in cui in tantissimi casi ci sono proprio pari diritti mentre ebrei cristiani e musulmani proprio se ne fregano è proprio il contrario anzi proprio nei loro libri sacri c'è scritto che la donna è impura va trattata da essere inferiore è bella roba è essere contro l'oppressione umana questa qui è una cosa che hanno assimilato cristiani e popolazioni pagane mentre ebrei e musulmani proprio nei libri sacri c'è scritto che chi non è della loro religione va sterminato nel corano meno esplicitamente nell'antico testamento invece proprio scritto chiaramente sterminare passare a fil di spada e violentare le donne dei nemici bella religione i cristiani vengono anche loro da lì però col nuovo testamento interpretandolo come fa comodo hanno cambiato le cose anche se in realtà gesù dice io sono venuto per completare l'opera del padre mio quindi non ha cambiato niente anche cristiani in teoria dovrebbero ammazzare e sterminare chiunque non è cristiano secondo il volere del loro dio essere contro sacrifici animali ecco questa è una cosa che hanno assimilato davvero i cristiani oltre i pagani anche se alcuni pagani sacrificano animali mentre invece ebrei e musulmani loro li sacrificano proprio per volere di dio basta vedere la macellazione che la chiamino kosher di ebrei o halali musulmani è sempre una macellazione rituale un rito e l'animale è una vittima sacrificale che poi viene mangiata però è un sacrificio animale il fuoco come simbolo divino gli ebrei non ce l'hanno però i cristiani musulmani e quasi tutte le regioni pagane l'hanno preso l'hanno assimilato questo elemento tra l'altro una curiosità i yahweh come si presentava nel deserto quando gli ebrei erano stavano facendo l'esodo che sono stati 40 anni nel deserto come si presentava di giorno con un turbine di sabbia tirato su dal vento che andava verso il cielo e di notte un turbine di fuoco che andava verso il cielo e riguidava la cosa curiosa è che sia per gli ebrei che per gli arabi questo è il modo proprio in cui si presentano i jin e jin cosa sono diavoli spiriti maligni quindi un po' una contraddizione questo yahweh dio buono del bene di qua di là che si presenta come un jin e si comporta anche come un jin leggendo la bibbia poi c'è l'usanza di assumere insomma vietatissima sia da ebrei che da cristiani che da musulmani ma praticata da quasi tutte le popolazioni che praticano religioni pagane e concludiamo con la festa di primavera in cui la parte dei dolci è stata assimilata proprio dalle religioni pagane dai celti halloween è quello che noi chiamiamo halloween gli zoroastriani lo fanno in primavera halloween viene fatto in autunno però è lo stesso modo di festeggiare come allo stesso modo l'usanza di regalare uova decorate che è un'usanza assimilata di brutto dei cristiani che regalano uova di pasqua e appunto come ho detto prima nei paesi ortodossi dove c'è il cristianesimo ortodosso le regalano decorate proprio ci sarebbero anche altre similitudini ma per ora mi fermo a queste perché già non sono poche come abbiamo visto più o meno tutte le tre religioni monoteiste e anche tante pagane hanno preso tanto dallo zoroastrismo però più o meno tutte pretendono di essere l'unica che detiene la verità l'unica che conosce la volontà di dio e tra l'altro il loro è l'unico vero dio purtroppo nel corso dei millenni questa pretesa ha portato a guerre e stermini a volte di popolazioni intere che continuano ancora adesso ma che in realtà usano la religione come scusa per conquistare territori economicamente interessanti e far fuori chi ci vive da sempre così non può accampare nessun diritto su quel territorio naturalmente c'è sempre stato chi se ne approfittato della credulità della gente il risultato è quello che abbiamo tutti sotto gli occhi con la maggior parte dei conflitti attuali in giro per il mondo che prendono proprio come scusa la religione e se non è la religione il nazionalismo che è un'altra forma di religione è il credo verso dei confini tracciati arbitrariamente e la convinzione di essere superiori solo perché si è nati all'interno di quei confini in pratica si tratta di credere di essere superiori che è la stessa cosa che si fanno credere le religioni c'è da dire che lo zoroastrismo ripudia le guerre o qualsiasi altra cosa che possa far male agli esseri umani e anche agli animali però è anche vero che dallo zoroastrismo è conseguito tutto quello che ho detto adesso quello che ho appena descritto e comunque si tratta sempre di credere in qualche divinità inventata millenni fa per spiegare quello che ai tempi la scienza non poteva spiegare e per dare un ordinamento alla società dell'epoca ma davvero ce n'è ancora bisogno con questa domanda da un milione di euro vi saluto ma prima di lasciarvi vi consiglio un altro canale il canale si chiama custo ergo sum custo perché è gestito dal dottor custo e quando dico dottore non è una cosa così detta a caso questo qui è davvero un professore universitario che si occupa di scienze religioni astronautica storia arte e tutti i falsi miti e le bufale che che ci sono attorno a questi argomenti dategli un'occhiata vi lascio il link del suo canale sotto nella descrizione e voi continuate a seguirmi sul mio canale youtube to speed se non siete ancora iscritti iscrivetevi così mi aiutate a far crescere il canale iscrivetevi anche ai miei gruppi su facebook urbex mystery dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursione viaggi in kayak dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak date un'occhiata sempre su facebook alla mia pagina to speed artigianato dove trovate tutti i miei lavori artigianali in pietra legna metallo e io vi do appuntamento al prossimo video oh yeah ciao